Per acquistare crediti visitate FIFA Coin Stank, un sito economico veloce e sicuro al 100%. Inoltre potete utilizzare il mio codice coupon che trovate in descrizione per avere il 5% di sconto. Bella a tutti ragazzi, qua orgasmic e sono qui a portarvi un nuovo squad builder come vi avevo anticipato e come poi ho fatto nell'ultimo squad builder. Vi porterò i silver o bronze o chiunque, qualsiasi cosa voi vogliate, giocatori forti, chiamiamoli così. Oggi parliamo del Silver Messi, che è un giocatore che ho utilizzato anche in precedenza, anche in uno dei primi squad builder che ho fatto. Ma è veramente una bestia, comunque me lo ricorda davvero tanto. Partiamo subito con il portiere, che è oro, è una BSG formata da tipo 4-5 campionati, non mi ricordo, forse 4. Howard, che è un buon portiere, spesso prende gol sul suo palo, ma questo è un po' tutti i portieri di questo gioco, visto che sono un po' tra virgolette fatti così alla cavolo. Comunque sia, è comunque sia un buon portiere, ogni tanto fa delle ottime parate, quindi ci sta. Poi, a terzino destro, ho utilizzato Micah Richards, della Fiorentina, che è davvero un buon giocatore, che ha tanta tanta fisicità, forte quindi in difesa, una discreta velocità abbastanza buona, comunque va abbastanza bene. L'unica cosa è un po' il passaggio che non è il massimo della vita, però comunque sia, a me è piaciuto molto, quindi ve lo consiglio. Come vi consiglio, ovviamente, uno dei più utilizzati difensori centrali di questo gioco, stiamo parlando di Onua, che è velocissimo, statistiche di difese fisiche che potrebbero anche essere quelle di un giocatore argento. Però comunque sia, fa la sua sporca figura in partita, quindi è molto molto buono. Poi, andiamo con il difensore centrale, che è l'unico giocatore bronzo, infatti l'ho imposto, della squadra, cioè Marvel Win, che ho pagato la cifra di 83.000 crediti, che è una cifra ovviamente folle, perché per un giocatore bronzo, oltretutto difensore centrale, pagare una cifra di questo calibro, penso che sia una follia. Io l'ho preso perché mi sembra, cioè lo volevo provare, in realtà non l'ho mai provato quest'anno, quindi volevo proprio provarlo, ma i prezzi dei giocatori stanno veramente schizzando alle stelle, davvero una cosa paurosa. Comunque lui è un giocatore fortissimo, cioè riesce a competere anche con i giocatori oro, quindi per dirla tutta, grazie alla sua velocità inaudita. E comunque si ha un buon valore di difesa, ma soprattutto un ottimo valore di fisico e un work rate perfetto per un difensore. Poi, terzino sinistro non è bronzo, ma è argento e troviamo, se lo trovo, adesso ragazzi non mi ricordo chi è, ah sì, Clute o Clat, non Clati, boh, non so come si pronuncia. Comunque, buon giocatore, l'ho utilizzato ovviamente per fare tripla intesa con Win, però è un buon giocatore, ha una buona velocità, ha buoni valori di difesa e fisico, quindi ci sta. Poi, andiamo con i due centrocampisti centrali, troviamo Zucculini a sinistra, che l'ho utilizzato tantissimo quest'anno, perché mi trovo veramente molto bene, è un centrocampista con statistiche molto bilanciate, quindi fa, proprio al caso mio, uno di quei giocatori che ricerco. Adesso io non so qual è il prezzo di adesso, però comunque sia, la squadra non costa tanto se non considerate ovviamente Win, che voi ovviamente potete cambiare questi due e mettere chi volete, cioè basta che fa tripla intesa. Ovviamente poi deve legare anche col portiere, vabbè. Mentre, a destra ho utilizzato Faurlin, che mi è parso un ottimo giocatore, era il giocatore di cui avevo più paura, nel senso, pensavo fosse il più scarso della squadra, invece non lo è, è veramente molto buono. Mi ha fatto due assist in tre partite, quindi ha un ottimo, ottimo passaggio, comunque un buon centrocampista da mettere davanti alla difesa. E costa poco, ovviamente. Poi, esterno destro ho utilizzato Quadrado, che sarà, si trasferirà al Chelsea, Quadrado veramente buono, mi ha fatto un gol in quattro partite, in realtà sono tre le partite, quindi ci sta, però un esterno va anche abbastanza bene, anche se gli esterni si usano abbastanza poco in questo gioco. E sulla fascia sinistra ne ho utilizzato Pablo Piatti, che anche lui volevo provare, assolutamente. Peccato che sia, come si dice, mancino, io lo utilizzavo sempre con il destro, non so perché, quindi mi ha fatto veramente poco questo giocatore. Mentre, andiamo con l'attaccante, che non è il Silver Messi, però è comunque... no, è oro, che cavolo dico. È Higuain, che è ovviamente fortissimo, mi sono trovato veramente molto bene. L'unica pecca di questo giocatore è che non è estremamente veloce. Se fosse estremamente veloce e avesse un fisico maggiore, sarebbe veramente un attaccante infallibile, formidabile. Ma, parliamo del Silver Messi, che è un giocatore veramente pauroso. Sto parlando di Farigna, che tra l'altro è infortunato. Farigna, non so se molti di voi lo conosceranno, penso di sì. È un giocatore molto... che ha delle statistiche, sinceramente me lo ricordano Messi, con un'ottima velocità, anche se Messi ce l'ha maggiore, però vabbè. È argentino, ha un ottimo tiro, non è mancino però, comunque sia. È destro, ha piede debole, 3 stelle, 4 stelle abilità, ha un buon passaggio, un ottimo dribbling e un fisico non altissimo. Quindi, sono le statistiche simili a quelle di Messi, ovviamente considerando che lui è un giocatore argento. Non costa tantissimo, 4.000 crediti, mi ha fatto 4 gol e 2 assist in 3 partite, quindi decisamente bene, per una seconda punta, comunque lui è un trequartista in realtà. Quindi, vi consiglio di provarlo, un'alternativa, per esempio, come Silver Messi potrebbe essere, che ne so, Dybala, che anche lui lo ricorda molto, anche perché poi è mancino. Quindi, ecco, quei giocatori lì, di quel tipo, diciamo. Comunque, raga, il video è questo, fatemi sapere nei commenti quali altri giocatori vorreste che io vi porti, tipo, che ne so, io stavo pensando al Silver, Yaya Toure, al Bronze, Ronaldo. Non lo so, fatemelo sapere voi nei commenti quello che preferireste vedere, io cercherò di accontentarvi, vi invito sempre a lasciare un bel like, 400 mi piace, uscirà un nuovo video e vi invito a iscrivervi al mio canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link li trovate sempre in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, bella raga! Ciao! Ciao!